ciao oggi vi parlo di un'altra moto super sport 950 s in versione rossa vediamo i dettagli la versione s è caratterizzata dall'avere di serie il cambio elettronico quick shift up and down e dall'ammortizzatore anteriore e posteriore all ins ecco qua la forcera davanti qua vediamo il dettaglio del meraviglioso olins al posteriore completamente regolabile estensione compressione precarico altra esclusiva della versione s il coperciale del passaggero che ovviamente si può togliere e sotto c'è posto per il passaggero comodo con le sue belle pedane il cupolino è regolabile in altezza il faro anteriore è dotato di un moderno proiettore d rl con questa parte a led luminosità variabile che si adatta alla luminosità esterna per essere meglio visti di giorno e per non disturbare di notte quando entrano la parte sotto che sono gli anabaglianti moto equipaggiata col ducati safety pack abs controllo trazione e in questo caso anche i ride in mode regolabili e programmabili questo super sport a circa 25 mila chilometri ha fatto tutti italiani ufficiali in rete ducati ed è ancora in garanzia ufficiale fino al 2021 fa parte del programma ducati approv che qua vediamo descritto in breve che ha 35 controlli tecnici e la garanzia appunto ufficiale della casa per un anno estendibile fino a due super sport però consegniamo tagliandato e con la garanzia per altre informazioni via di negozio ducati verona via le piame